È giallo sui fondi stanziati dalla regione per riammodernare la ferrovia Roma Lido, in particolare per la realizzazione del parcheggio e la costruzione di un ponte ciclopedonale nella stazione di Aciglia Sud. In Campidoglio, durante una recente seduta della Commissione Mobilità, si è parlato di una possibile destinazione ad altro uso. Dall'Assemblea, di cui è disponibile la traccia integrale online su YouTube, si può ascoltare Pietro Calabrese, vicepresidente precario, affermare Io credo che tutti abbiano saputo che a settembre Atac ha distratto qualsiasi tipo di pagamento che non riguarda stipendi e gasolio per garantire continuità al servizio e non stiamo parlando soltanto del completamento della stazione di Aciglia. Pronta la replica di L'Area Piccolo, membro PD della Commissione. Sarebbe molto grave se i fondi stanziati dalla regione fossero stati distratti, come ha affermato Calabrese, perché si tratta di denaro vincolato che non avrebbe potuto essere destinato ad altre spese.